Inps, che tanto si sta parlando in questi giorni, io stesso mi era stata fatta una domanda, ho detto permettetemi un attimo di verificare perché avevo letto sui giornali di questa questione e francamente con tutta la buona volontà seguo centinaia di dossier ma questo in dettaglio, su questo non ero informato. Allora posso dire all'esito ovviamente dell'informativa assunta dei più puntuali riferimenti che mi sono stati riportati che il Presidente dell'Inps all'atto dell'insediamento, il nuovo Presidente dell'Inps, prendeva emolumenti di molto inferiori rispetto al Presidente dell'Inps. C'è stato un riassetto dei vertici dell'Inps, ha riguardato l'Inps e mi pare anche l'Inail, sono stati ristrutturati i vertici, sono stati insediati dei CDA, dei Consigli di Amministrazione. Quindi a quel punto lì, sulla base di provvedimenti legislativi e provvedimenti regolamentari, è stato necessario adeguare gli emolumenti in particolare del Presidente dell'Inps e prevederli per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Questo ha portato a un adeguamento stipendiale. Però posso dire, perché ormai non dico nulla di più che non sappiate, che anche se guardate le tabelle comparative che sono state pubblicate sui giornali, ancora oggi il Presidente dell'Inps prende degli emolumenti che sono in linea o addirittura anche inferiori rispetto a istituzioni paragonabili. Ora, detto questo, chiarito questo aspetto, il tema non è evidentemente questo. Il tema è che ci sono dei cittadini italiani che ancora aspettano la cassa integrazione. Su questo quindi il Presidente dell'Inps, tutti i lavoratori dell'Inps e tutti coloro che hanno un ruolo, e io per primo, dobbiamo lavorare giorno e notte. Perché basta anche un solo lavoratore che ha preso la cassa integrazione in deroga, ad esempio a maggio, ma non l'ha presa a giugno, luglio, agosto, settembre, è un problema. Perché significa un lavoratore che non ha mezzi di sostentamento, una famiglia della famiglia del lavoratore che non ha mezzi di sostentamento. Ne basta uno. Quindi non ha senso dire in questo momento, vi sono molto franco. Non ha senso dire milioni l'han preso ma ci sono ancora una parte residua, un numero contenuto. Quel numero contenuto sono vite, sono famiglie che devono mantenersi.